Ciao a tutti. Volevo un attimo parlarvi del nostro appartamento. Il nostro appartamento è piccolo ma abbastanza comodo. Questo è il soggiorno. Abbiamo una cosa normale. Una televisione. Un divano. Questo tavolo è piccolo. Abbiamo quattro sedi. Così normale. Ok. In fondo del corredorio è la nostra stanza da letto. Abbiamo due bagni. A destra abbiamo due bagni. A sinistra abbiamo la stanza da mio figlio. Il mio figlio è qui. Abbiamo dei libri qui. Questa stanza è di mia opa. È qui. Vado verso la cucina. La cucina è qui. Nel frigorifo. Abbiamo molte cose. Abbiamo dei formaggio. Il spaghetti. Il latte. della mammalata. Ok. Ciao a tutti. Bye bye.